Ok, ciao raga, sono Anto e sono qui per mostrarvi un piccolo bug che accade nelle custom, è una cosa abbastanza divertente Fa tempo che io sfoggio la mia skin limitata di Zeus, ah da notare che siamo 5 contro 2 Ok, 5 contro 2 ragazzi, 5 contro 2 E vediamo un po' questo bug, bisogna stare abbastanza veloce per riuscire a farlo E lo sta insegnando questo mio amico, diciamo che ho incontrato in season 1, ci siamo scontrati parecchie volte nelle 1v1 Perché in season 1 io giocavo parecchie 1v1 E per me vi faccio vedere insomma, si scioppa Ok, io qua sto scioppando proprio al volo perché bisogna essere abbastanza rapidi per arrivare là in tempo Invece della spiar, cosa mi da power a schifo? Frenzy e sprint Ok, andiamo, andiamo, andiamo ragazzi, andiamo a farvi vedere questa piccola novità Ok Ci sono un po' di nemici ragazzi, appena appena E facciamo una decina di venta Così E' impazzito, vabbè E questo era Era il piccolo bug ragazzi Sì, è una cazza Oddio E' una cazzata Ragazzi ragazzi, ma non è successo? Stiamo provando una custom così Avevo detto, vabbè mettiamo due botte e vogliamo provare una combo E ci è successo E ci è successo Questo Ci sono, credo siano una quindicina di nemici attualmente E io non so che fare Io un po' posso fare questo Oddio Oddio Muoio male C'è un po' C'è un po' di gente Vabbè Questo è il bug Ovviamente si hanno dei tempi di respawn enormi Abbiamo messo al massimo tutti i gold Tutte queste cazzate Però c'è Guardate ci sono tipo 6 Ymir Ci stanno 6 Ymir, 4 Bacchus Guardate E' un oggetto che continua ad arrivare Ha fatto solo una doppia E' un po' che gli racconta? Vabbè Questo è un piccolo bug che accade nelle custom Se si è abbastanza veloce a Scegliere i god Nella Oddio Due due alti Vabbè c'è un po' di gente Se si sceglie abbastanza velocemente I due god bot da giocare contro Però insomma è divertente Avrò fatto che ne so 6 penta Forse No, almeno Credo 4 Avrò fatto qualcosa come 4 penta A caso così Non credo di achievement Una cosa del genere Però E' davvero davvero carino Insomma è stata una cosa simpatica Ci tenevo a far vedere Ecco non ho fatto 3 penta Figuratevi neanche 5 Era una cosa carina E ci tenevo a mostrarvela Io sono Antold Spero che questo breve interlazzo Vi sia piaciuto Noi ci vediamo al prossimo video Ah Se qualcuno di voi viene a Romics Mi trovate domenica Con 4 tentacoli E due cose enormi Attaccate alla schiena Che sono due cose a scuolo pendra Sono nei panni di Ken Kaneki Di Tokyo Ghoul In versione Kakuja Io sono Antold Quindi ci vediamo al prossimo video Ciao